creiamo ora con hot mix pro easy un impasto per pizza gli ingredienti utilizzati sono farina acqua lievito di birra zucchero olio di oliva sale per prima cosa sciogliamo il lievito di birra nell'acqua e quindi versiamo tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere in acciaio impostando la velocità delle lame a 10 l'impasto è perfettamente pronto in soli 10 secondi non rimane quindi che lasciarlo lievitare